Abbiamo mandato il documento al Ministero della Salute e so che anche altre società scientifiche, diabetologiche, nazionali, come le associazioni dei pazienti, hanno già fatto analoga richiesta al Ministero della Salute. Non si tratta qua di fare le piccole guerre di campanile, ma si tratta di evidenziare che questo tipo di popolazioni, le popolazioni con patologie ad andamento cronico, una di queste è il diabete, ma potremmo mettere la broncopatia cronica, lo scompenso di cuore. Questi soggetti non li abbiamo curati bene da circa un anno, probabilmente dovremmo primireggiare queste persone, però mi consenta anche che tra queste persone, in una piccola percentuale, ci sono anche i bambini con diabete, o i giovani con diabete di tipo 1 in questo caso. Tutto questo testimonia che nell'ambito della pandemia Covid c'è una pandemia diabete, le due patologie purtroppo fanno una forte, maledetta, malefica associazione. Lo Stato, la politica buona, quella che previene le problematiche, deve occuparsi di questo aspetto della sanità, non deve tamponare, bisogna progettare, bisogna capire che dobbiamo essere pronti ad affrontare questo tipo di patologie. Le faccio un esempio che vale per tutti. L'Italia è, a livello mondiale, la terza nazione che presenta caratteristiche di laboratori avanzati e di alta tecnologia. Quindi noi siamo nelle condizioni, terza nazione al mondo, di poter produrre noi il vaccino. Quindi la politica, ripeto ancora una volta, nell'ambito dei fondi, per esempio del Recovery Fund, deve prevedere dei fondi per potenziare gli stabilimenti dell'industria scientifica, dell'industria farmaceutica. In questo contesto che ruolo avrebbe il fascicolo elettronico? Avere la possibilità che lei in una medaglietta, in una card, per esempio, abbia tutte le informazioni del suo stato di salute. Evidentemente questo permette un'accessibilità alle cure di molto, di molto vantaggiosa, in un momento in cui da più parti ormai al mondo parliamo di teleassistenze, di telemedicina. Sono strumenti che permetteranno certamente di agire prima e in maniera più completa. Però fin quando la regione, nel caso della Sicilia, o lo stato italiano, fin quando avremo questa disparità tra regione e regione, diciamo che questo sarà purtroppo difficile. Ormai anche i malati cronici, malati con malattia grave, hanno la paura di andare nei presidi ospedalieri. Molti ospedali sono stati convertiti solo a Covid e quindi non riescono a dare più quei servizi che prima potevano dare. Progettare da subito nuove modalità di cura e di assistenza. Alcune problematiche fondamentali in questo periodo. Una è quello che lei dice, le persone hanno paura di uscire e quindi fanno terapie molto spesso inadeguate, non controllano l'efficacia di quelle stesse terapie. Questo fenomeno va sotto il nome di inerzia terapeutica, è una delle cose più terribili, che naturalmente significa peggiorare lo stato di benessere. Quindi l'inerzia della terapia o l'inerzia che è determinata dal funzionario che deve lavorare in smart working, l'assenza dei funzionari, l'assenza del medico di medicina generale che deve giustamente avere le proprie precauzioni, impongono un modello diverso di pensare alla cura. Le faccio un esempio per tutti. Il diabete si cura con buona alimentazione e attività fisica, poi le medicine. Buona alimentazione. Abbiamo assistito in questi periodi dove la gente sta chiusa dentro a iperalimentazione, attività fisica. Nessuno di noi, neanche la nostra società scientifica, che tra l'altro si occupa anche di diabete oltre che di obesità, nessuno di noi ha mai pensato che bisognava insegnare ai pazienti a fare attività fisica domiciliare. Naturalmente questo significa uno sforzo delle stesse società scientifiche, dello stesso Ministero della Salute, per affrontare da capo perché, ripeto, nulla ormai sarà più come prima. Il Covid ha determinato certamente una nuova era delle cure. Bisogna pensarci subito. Il governo nazionale e poi a cascata ovviamente le amministrazioni regionali e così via devono impegnarsi in maniera efficace. Noi abbiamo tanti comitati tecnici scientifici, perfetto, allora bisogna cominciare fin da subito. Il Covid hospital di Partinico ci sono state determinate problematiche. Si parlava anche di passaggi per ritornare alla normalità. Com'è la situazione? Grazie al governo regionale, devo dire, grazie all'assessore Razza che ha tanto puntato alla presenza contemporanea diciamo di ospedali che garantissero risposte in termini Covid, risposte in termini non Covid. Il nostro ospedale, grazie ripeto anche al direttore generale che ha molto insistito su questo punto, ha un pronto soccorso che è anche non Covid. Noi siamo la struttura che è la più capiente, la Sicilia occidentale, noi abbiamo 100 posti letto, abbiamo diviso questi posti letto, l'assistenza in un modello che secondo me è abbastanza efficace. Quello che fanno le Emilia Romagna, c'è l'ospedale per intensità di cure. Abbiamo i quattro piani di cura, questo assieme alla creazione di quattro team differenziati ci ha permesso di poter dare delle risposte, naturalmente però tenendo conto che la nostra casistica di reparti di medicina Covid, il 23% dei pazienti ricoverati muore. Ma muore perché spesso, ripeto, si interviene tardi, perché il Covid è una patologia simile di influenzale all'inizio, se non lo blocchi all'inizio il virus si sposta. Anche qua ancora una volta, ripeto, la parola d'ordine deve essere recovery fund, assistenza territoriale, fortificare l'assistenza territoriale.